Bene, oggi parliamo del Mic Booster CT1 della Clark Technic. Shhh! No, non è una sigaretta elettronica, te l'ho già detto mille volte, non è una sigaretta elettronica. Ora devo rifare il video. Taglia. Eccoci quindi a entrare nel dettaglio del Mic Booster CT1 della Clark Technic. Allora, questo congegno piccolo piccolo piccolo, che in effetti non ha tastini, non ha potenziometri, non ha leve, non ha nulla, serve semplicemente a incrementare il volume del tuo microfono di 25 decibel. Questo qui nello specifico. Ce ne sono alcuni che arrivano a 26 a 28. Insomma, l'obiettivo di questo affarino qui è quello di incrementare il volume del tuo microfono. In quali casi usare il Mic Booster? Allora, i casi possono essere diversi, ma tutti sono riconducibili a un microfono che ha un volume basso. Quali tipi di microfono? Quindi mi riferisco soprattutto a microfoni dinamici e microfoni a nastro. Ora, dei microfoni a nastro non ne parleremo perché non sono un esperto dei microfoni a nastro e probabilmente tu non li utilizzerai. I microfoni più diffusi sono quelli a condensatore e quelli dinamici. Quindi questo qui funziona con i microfoni dinamici. E tu sappi anche che però funziona con i microfoni a nastro. Quindi, i microfoni dinamici di solito, a differenza di quelli a condensatore che sono alimentati, non essendo alimentati, hanno un volume piccolo 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 così. Che quando arriva dentro il mixer o la scheda audio ha bisogno di una bella girata di manopolina o di fader per incrementare il volume. Che cosa accade? Possono accadere due cose. Uno, che la scheda audio o il mixer non ce la fa. Giri al massimo il volume, giri al massimo il gain e non ce la fa. Oltretutto, ti trascini su un sacco di rumore. Oppure, ce la fa, quindi riesci tramite volume gain a pilotare, riuscire a pilotare il tuo microfono, ma senti un po' di rumore in sottofondo. Un rumore un po' fastidioso che viene anche nella registrazione. Quindi, questo qui risolve questi problemi. Prima ti raccontavo che questo affarino qui, cioè un mic booster, non solo questo nello specifico, ma qualunque tipo di mic booster, funziona con i microfoni dinamici e con i microfoni a nastro. Non funziona, invece, con i microfoni USB, perché sono proprio tutto un altro tipo di microfono. Volendo proprio semplificare al massimo il concetto, dove lo infili il cavo USB? Anche facendo molta forza ti assicuro che non entra, quindi non è il caso di provare. Quindi i microfoni USB li lasciamo da parte. I microfoni, invece, a condensatore, che hanno lo stesso attacco, perché hanno comunque il jack canon, il cavo canon, non il jack canon, tecnicamente possono essere agganciati, ma essendo microfoni a condensatore, quindi avendo il condensatore, avendo un'alimentazione, la famosa Phantom, più 48 volt, hanno un volume che è molto più elevato rispetto al volume di un microfono dinamico. Quindi non hanno necessità di questo tipo di congegno. Quindi ricapitolando, se hai un microfono USB, questo non ti serve. Se hai un microfono a condensatore, questo non ti serve. Se hai un microfono a nastro, questo puoi usarlo, ma soprattutto se hai un microfono dinamico, questo, nella maggior parte dei casi, è indispensabile. Spesso persone che mi chiedono consigli mi hanno contattato in privato, almeno 3-4 persone, dicendomi, io ho comprato un mic booster, l'ho attaccato al microfono, ma non funziona, non si sente nulla. Il problema dov'era? Che il mic booster, per funzionare, ha bisogno della 48 volt attiva. Aspetta, aspetta, aspetta. Provo a chiarirti le idee, perché so che stai andando in confusione. Perché prima ti ho detto che i microfoni a condensatore hanno la 48 volt e quindi non hanno bisogno di questo. Adesso ti dico che devi attivare la 48 volt. Sono impazzito? No, non sono impazzito. Giuro. Non ancora, almeno. Allora, che cosa succede? Succede che per funzionare questo, che in effetti è un preamplificatore per microfono, ha necessità della 48 volt. Quindi, in ingresso, tu devi attivare sulla scheda audio o sul mixer, o dove ti pare, la 48 volt, in modo che arrivi qui. Ok? Che cosa succede, però? La 48 volt viene bloccata. Non passa. Quindi non arriva al tuo microfono. Perché sappiamo bene che i microfoni dinamici non hanno mai, mai, necessità della 48 volt. Ti dico una cosa, però, anche se per sbaglio connetti un microfono al tuo mixer o scheda audio e gli dai la 48 volt, non succede niente. Diversamente dai microfoni vecchi, dove lì possono succedere davvero guai, li puoi addirittura bruciare, nei microfoni moderni non succede quasi nulla. Quindi non impazzire se per caso attivi la 48 volt. Non succede nulla. Però, come ti stavo dicendo, la 48 volt è necessaria per far funzionare questo. Quindi non per il microfono, ma per questo è necessaria la 48 volt. Dopodiché la 48 volt verrà bloccata qui e nulla, nessuna, questa corrente elettrica non arriverà al microfono. Ok? Tutto chiaro? Andiamo avanti. Bene, allora, adesso siamo nella fase di test del CT1. Allora, in questo momento sto parlando dentro il Rode Podmic, che va nel Rodecaster Pro con un volume al massimo, quindi il fader del Rodecaster Pro è al massimo e il gain è a 30. Sto entrando dentro Ripper e in modo che tu possa vedere qual è il volume di ingresso in questo modo, che è tutto sommato un volume decente, perché mi senti bene. Ok? Però ho il gain a 30 e il fader al massimo nel Rodecaster Pro. Quindi, proviamo adesso, inserendo il CT1, quindi il mic booster, proviamo a vedere com'è la situazione. Allora, il CT1, il mic booster, di solito si mette tra i due cavi, quindi un cavo che dal microfono va nel mic booster e dal mic booster il cavo va nella scheda audio o nel mixer. In questo caso, per semplicità, anche se è esteticamente veramente molto brutto, lo metterò direttamente qui dietro al microfono. Il suono non cambia, è la stessa cosa. Soltanto per un fatto estetico, siccome è veramente brutto adesso, lo vedrai, si fa in questo modo. Ok? Provo a collegare il mic booster. Adesso abbasso il volume in modo che tu non senta cose fastidiose in cuffia. Eccomi. Allora, ho attivato la Phantom sul canale. Ti ricordi cosa ti ho detto prima? Che quando metti un mic booster devi attivare la Phantom. Phantom che porta energia al mic booster, ma non dentro il microfono. Adesso, come puoi vedere, il volume è molto molto alto. Anzi, troppo alto. Quindi provo ad abbassarlo. Prova, prova. È ancora molto alto. Prova, prova. Ok, diciamo che più o meno adesso il volume è come prima. Che cosa ho fatto? Però ho messo il fader del roadcaster, l'ho messo a meno di metà. Ora, che cosa potrei fare? Potrei abbassare anche il gain, quindi adesso è a 30, potrei metterlo ancora meno. Però il senso è, hai visto quanta potenza in più questi 25 dB? Quanto si fanno sentire? Quindi adesso stai sentendo il road pod mic con il mic booster. Quindi con più 25 dB che entra dentro il road podcaster pro. Roadcaster pro, mi confondo sempre con questi nomi. Roadcaster pro e va dentro Reaper. In questo modo abbiamo lo stesso volume che avevamo prima, però con meno gain sul, meno volume sul road podcaster. Roadcast, bah! Cazzo, scegliete dei nomi semplici. E quindi, in teoria, dovrebbe funzionare meglio. Questo poi lascia stare che il road, ho paura di dirlo, il road podcaster, roadcaster pro. Insomma, si può chiamare una cosa road, roadcaster pro? Però, ok, il caster pro della road, così è più brutto, comunque riesce a pilotare, anche senza mic booster, benissimo questo microfono. Quindi, in teoria, su uno strumento del genere non c'è bisogno. Come ti dicevo, il mic booster serve soprattutto su schede audio o mixer che non riescono a dare troppo volume a questo microfono, oppure che ci riescono ma si sente troppo rumore di fondo, troppo fruscio. Allora interviene il mic booster che ti permette di avere gain e volume molto più bassi, introducendo quindi molto meno rumore di fondo. Bene, ora che abbiamo visto che cos'è questo affarino, e quindi abbiamo capito che non è una sigaretta elettronica, abbiamo visto a cosa serve, come funziona sui microfoni, qual è l'effetto che ha, su quale microfoni va bene, su quale microfoni non va bene, proviamo a arrivare alle conclusioni. Tiriamo delle conclusioni. Allora, questo qui, dal mio punto di vista, è indispensabile per tutti i microfoni dinamici, perché gli dà un boost in più e ti permette di utilizzare meno gain sulla traccia e questo ti permette di ridurre il rumore di fondo. Rumore di fondo che, in alcuni casi, in maniera, non voglio dire impercettibile, ma quasi è introdotto da questo qui, ma è molto meno rispetto al rumore di fondo che avresti alzando al massimo il volume e al massimo il gain. Quindi, non preoccuparti, utilizzando questo ottieni sicuramente un vantaggio. Quindi, se hai un microfono dinamico, ti consiglio assolutamente di utilizzarlo, su tutti i microfoni dinamici, perché ti porta un vantaggio di 25 decibel, che non è assolutamente poco, che ti aiutano veramente tanto nelle registrazioni. Quindi, volendo concludere questo video, ti dico che, dal mio punto di vista, dovresti comprare un affarino del genere. Questo qui che ti sto facendo vedere io è quello più economico. Costa intorno, credo, 25 euro più o meno, ed è quello più economico e già fa il suo lavoro. Ce ne sono anche di costose, arriviamo anche intorno ai 100 euro, però anche lì dipende quanto costa il tuo microfono, dipende la tua attrezzatura, perché sarebbe assurdo che hai un microfono di 60-70 euro e compri un Mic Booster che costa un centinaio d'euro. Insomma, sarebbe sproporzionato l'acquisto. Quindi, io ti consiglio, se non hai grosse preferenze, se comunque vuoi capire meglio come funzionano e vuoi ottenere subito un risultato concreto, questo qui può fare al caso tuo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e non mi resta che salutarti, darti appuntamento alla prossima settimana, ma prima di farlo ti chiedo, come al solito, di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione! Grazie per la visione!